Un delitto avvolto nel mistero e che al momento non ancora un movente. Vanno avanti senza sosta ormai da due giorni le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Leonardo Marocchelli, l'allevatore 55enne ucciso a colpi di arma da fuoco la notte tra il 20 e il 21 dicembre nelle campagne di Cagnano Varano, in località Sant'Antonio. I militari, coordinati dalla procura di Foggia, hanno eseguito nelle ultime ore una serie di perquisizioni ed esami stub nei confronti di alcuni pregiudicati della zona per rilevare tracce di polvere da sparo, ma sull'esito di tali accertamenti vige il massimo riservo degli investigatori. Sono stati proprio gli uomini dell'arma a scoprire il cadavere nel corso di un servizio di controllo del territorio, attirati da un'auto o una Volkswagen Polo con i fari accesi ferma sul ciglio della strada. Pochi metri più avanti hanno trovato il corpo ormai senza vita dell'allevatore, riverso in una pozza di sangue. Sul posto, poco lontano dall'abitazione del 55enne, non sono stati rinvenuti bossoli. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato. È probabile che la vittima sia stata affiancata dall'auto del killer mentre tornava a casa, tentando anche la fuga, ma inutilmente. Da chiarire anche il movente del delitto. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista, compresa quella che conduce alla criminalità locale. Una mano alle indagini potrebbe arrivare presto dall'autopsia disposta dalla procura di Foggia e che verrà eseguita nelle prossime ore.